Amici, è quel momento, Garden of Banban Fa parte di quella sfilza di horror nati grazie a Five Nights at Freddy's Questo dovrebbe essere più simile a Poppy Playtime E parte in condizioni disastrose Ok Oh, ci siamo Bene Non c'è la lingua italiana Mi fa piacere Cioè, ho attivato il sottotitolo io questo puttanaio Ok New game Per i genitori che cercano i loro bambini scomparsi è un argomento delicato Clicca l'orologio per... Ok Ok Oh, la madonna Ban Ban's Kindergarten Premi E per interagire con gli oggetti Volentieri Oh, una chiave blu Oh no, è veramente la Poppy Playtime Qui che abbiamo? Ah, questa sembra la pizzica di FNAF Però Ma il mio PC sta prendendo il volo Ma per Garden of Banban Va bene Che ma è una roba allucinante Ok Vediamo Non so onestamente cosa aspettarmi Il telecomando vi chiede due batterie Necessita di due batterie E dove cazzo mi metto io fuori? Mangia i vegetali e diventerai forte come me Ok Certo Perché non dovrebbe esserci una batteria qui? Non fa la grinsa Ok E mo? Molucza 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 Ah ok Ho capito adesso Hello Ciao Ti ringrazio La fine è qui Scusa Il Ma che cazzo di asilo è? Ma non è un asilo Ah no, non la chiave viola Come... Ah i vetri gialli Ok No? Eh Ah no Forse mi serve più male la tessera gialla Non lo so Allora Eccessivo Ah ok Qui c'è il vetro Questa cosa è terribile Che abbiamo? Ti dico di andare lì Tu vai lì Cambia un cazzo Qua? Posso? Nooo Cos'è riuscivo? Ehm... Altra? Tu ti muovi o fare qualcosa di sbagliato Trova... Ah Trova Trova Sei uova Cinque adesso Una gliel'ho data Allora io Come ho detto prima Non amo Questi... Questo genere di horror Perché partono tutti da ultime primesse Cioè secondo me l'idea di utilizzare Ehm... Cose tendenzialmente per bambini Ok? Per far paura E' una buona cosa Cioè funzionerebbe Credo che si verranno quasi tutti Essere delle cagate colossali Vedi Far Nights at Freddy's Che è Che è Terribile E' veramente Terribile Ok Ho Ehm... Poppy Playtime Che è anche lì Per carità Non è manco Così brutto E' un po' Una mezza pesa per il culo Ehm... Però Perché Arrivo dopo 40 minuti di gioco Che Mi hai preso Eccetera Poi Scopo di Dove pagare Dimelo subito Non mi ingrazio Cos'è? Non ce l'ho Quella gialla Ehm... Come non ho quella rossa Come non ho quella viola Uga buga Buga uga Grazie Non è che devo ritornare qui Perché magicamente sono sbucate delle uova Ehm... Boh E' anche bello pesantino Questo gioco Molto più di quanto potessi pensare inizialmente Madonna I cestini C'è mamma Mi sto nascondendo In una stanza Ma devo combattere i mostri Ehm... Va bene Sì Sono finite le uova Mio amico Ah no Ce n'è un altro qui Ti... Ti dispiace Ok Siamo a Tre uova Su sei Tipo E poi è che Sono usciti Trentamila giochi In un anno Di sta serie In un anno Perché Io ho visto su Steam Sono tutti al 2023 Io ho visto su Steam Che sono arrivati al sesto Guardate che non ho trovato il quinto Ehm... Non capisco Non ho trovato il quinto No Ne manca ancora Ok Ma qui non ha Un effetto sonoro Che sia uno Tutto Terribilmente Silenzioso Ok Il drone La meccanica del drone Però è interessante Vediamo come l'hanno sfruttata A meno che non consiste soltanto Nel pannele e tasti In quel caso Fanculo Però Vediamo Ma intanto Non vediamo un cazzo Se io non trovo L'altro uovo Quindi Quindi A parte che siamo alti 1,20m A meno che non siamo Dei bambini Anche noi Non capisco Però Ma guarda il tavolo Come flippa Ehm Ma la fisica Attenzione Qui? No Non so dov'è Qui? No Nel culo No Io ho un drone Non si sa mai Quest'altro albero No Che devo fare? Ok Ok È necessario Un oggetto Distruttivo Per Per Perché no? Tu non sei un oggetto Distruttivo Mio piccolo drone Un' Che cosa sta andando Il drone non è un oggetto distruttivo Molto bene Dove cazzo è l'altro uovo? Perché non vedo niente qui A meno che non sia Qui, a parte che la schivaniare è al contrario Ma perché? Adesso si è incastrato di nuovo Questa è sembra molto simile alla mia sedia Però giuro che non le viene un Ixus alla mia Ecco, questo è sicuramente comunque l'asilo più strano del mondo Ehm, perché? Gesù Macchinette sempre vuote Che ne so, non per l'altro Va bene Come 0 minuti Che succede? Oh no È impazzito Allora A meno che non si riveli tra le piante Io non ho la benché minima idea di dove possa essere Gettare le piante tra i disegni Che è tra gli alberi più brutti della storia dell'uomo Oh, eccolo Vaffanculo Andiamo Eh, l'ho trovato Non l'ho preso? No, che vero è no Ma l'ho preso? Ma tu Che cazzo Ma che Ho delle domande, ecco Però forse era questo quello che dovevo tenere Ma vaffanculo, va Ma vaffanculo Ok Oh, grazie Eh, quella gialla Aiuto Ok Pardon Ok Quindi Ti va di E ora? Si apre quello Distrazione 1 Ok Mi sembra parezza che qualcosa ci attaccherà a un certo punto, no? Tipo Lui Ah, così proprio Femi space per saltare Ma che cazzo Ok Ok Colpa mia? L'ho sbagliato io Aspetta Sto cercando di comprendere Perché Perché attenzione Molto più elaborato Di propri playtime Più o meno Ecco Ah, ma Ma vaffanculo Non potevo farlo da qui Allora Qui abbiamo Io da solo Voglio giocare con Il buco Dell'uccello Che è scritta così Ma tutti mi hanno lasciato Tutti quanti hanno Fatto festa Tra me La signora Mesa mi ha visto andare Sono spaventato Perché Il buco era troppo forte E i miei amici hanno annullato Ma Quello non c'era prima Ne sono Piuttosto sicuro E io che cazzo Ne so Boh Ma non ho idea Tu sei tipo arancione No vabbè Ti prego Allora Post-it Dove cazzo li ho messi Ok Penna Dove ne ho uno Ora Ma Ma Vatti a ricordare Poi chi è chi Cioè Nel senso Io faccio Del mio meglio Allora Ehm Il penuto è rosa E va bene Lo abbiamo segnato Poi La stronza col fiocchetto Ovviamente La penna Non scrive Non male che ne ho un'altra La stronza col fiocchetto Bianca Poi Quello con le corna Rosso Quindi non arancione Come pensavo io Aoni Perché Cioè Questo è Aoni È Indaco Ah ma c'è Ma c'è questa cosa Ma Ma allora Ma allora Faccio così Ma allora Faccio così Poi questa foto La cancela dal mio telefono Perché non voglio avere Nessun ricordo Di sto gioco Ehm No Allora Scherzo Proseguiamo Andiamo a mettere I colori Là in mezzo Però Allora È un plot narrativo Zero Proprio Nulla 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 Cioè Non dico Cazzo La trama Di Metal Gear Solid Però Minimo Cioè Proprio Playtime Aveva un qualcosina In più Questo Non sembra Allora Tu sei Rosso Tu Bianca Forse Tu Guarda Non è più Il violaccio Ok D'accordo No Vaffanculo C'è uno Che avevo azzeccato Ok No Poi Di una rapidità No L'ho sbagliato Di nuovo Vabbè Questo perché Io ho ovviamente Un autismo Di Livelli Incredibili Dai No 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 È giusto È giusto E tu Sei Ancio Ok Questa È quella Ancio Ciao Ciao Come stai Navda Ma Ma Per me per la incarnazione, ma cos'è? Ma vaffanculo, va, ma vaffanculo. Vediamo bene l'animazione che è andata un paio, sapete, ma? No, Dio! Che voglio dire R? Dai, su, piccione dei miei coglioni! Muoviamo! Come butta? Tanto il tuo cammino sta adesso. Ok. All the shifter to sprint, eh, no, guarda. Ma la mia, ma era bloccato. Ma è abbloccato. Cosa... Cosa avevi mai dovuto fare? Dimmelo. Ah, no, mi prende subito se sto qui. Va bene. E' essere tua mamma. Cosa devo fare? Qual è il piano? A parte smettere di giocare a sti cazzo di giochi. Qual è il piano? Gesù. Questo fa, guarda, colpiamo FNAF. Ho, guarda, colpiamo FNAF. o è? frate lo giuro non va eh e beh ma io l'ho schiacciato tre volte l'ho schiacciato tre volte non ne posso più ed è passata mezz'ora quanto cazzo dura è passata mezz'ora sono che io devo uscire poi e morire da fare affrontare con un pullman sto prendendo decisamente male dai oh io l'ho chiamato eh gentile no 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 non 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 c'è nemmeno la pausa Oh, bello Ah, i tavoli sono tutti già sistemati Bene Allora Facciamo così Io faccio un taglio Al massimo Ricarico il video Cioè al massimo Avete solo visto un taglio In caso Prossima parte Amici È il momento di proseguire Come cazzo si chiamava sto gioco? Garden of Banban Forse Eh, che vuoi che faccio? Un attimo che mi ha chiesto una cosa Ok, abbiamo trovato questo biglietto aereo di un certo Hutam Adam Di nome, mamma che per me scrive Gesù Bene, ora vediamo se riesco ad andare avanti Cazzo di carta di imbarco di Hutam Adam Da Montreal Ehm Montreale, non Montreale A Madrid Va bene E quindi? Ok Non mi veniva E dopo che io Ho questa carta di imbarco Che Cioè serviva qualcosa? Non mi pare Madonna la sedia All'ingresso no Per me Oh, vuoi fare un gioco con me? Non mi pare Cioè serviva Come smash Cioè serviva Ehm Control ok e quindi e quindi vaffanculo che cazzo lo poteva vedere dai se ti valo tv no ah no e il piano qual è oh ok vediamo mi aspetto di tutto un tragedio ciao non sei proprio bellissimo ma vaffanculo va Gesù adesso se contarmi gli altri ma che cazzo che cazzo che cazzo che cazzo che cazzo